La Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo e Cinecittà hanno firmato una convenzione che prevede una contaminazione tra talenti con la Roma Film Academy, un modello che unisce l'approccio metodologico e teorico con una forte propensione alla progettualità per colmare il gap tra il mondo universitario e quello professionale. Il preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, Cristian Corsi. È una convenzione strategica per la Facoltà di Scienze della Comunicazione, per l'avvio di una rivoluzione della didattica all'interno di Cinecittà, ma anche una condivisione di progetti strategici sia per la didattica, sia per la ricerca, sia per quanto riguarda anche le nuove convenzioni di stagio e di tirocinico, le start-up all'interno di Cinecittà Roma in ambito di cultura, spettacolo a 360 gradi. È una rivoluzione storica per la Facoltà che proietta la Facoltà di Comunicazione a livello nazionale e internazionale attraverso un network di eccellenza. Nasce da una progettualità condivisa con la Facoltà e una serie di rapporti di mesi e ha avuto poi la realizzazione con un protocollo di intesa affinché la collaborazione potesse diventare strutturale per sei anni con la Facoltà e Cinecittà. Apriamo un percorso di formazione universitario a tutti gli iscritti dei corsi di formazione di Cinecittà Roma con una modalità organizzativa straordinaria attraverso la quale i docenti della Facoltà andranno a Roma attraverso delle lezioni full a riproporre gli insegnamenti del corso di laurea ad AMS.